Sono le 6 e 11 Alle 8 sotto casa di Yammer Poi partenza per l'Igua Scusate se fino adesso non ho parlato Ma non ce la potevo fare Ho anche trovato posto davanti a una scuola piena di bambini Non ci credo Guardate che roba Ciao Jenny Ciao Carola come andiamo? Perché non andiamo a fare una partita di software? Ed eccoci qua questo è il take 2 Perché Spielberg qua ha sbagliato e non ha schiacciato Rec la prima volta E siamo pronti con il disco iattoli e la last shot production per partire per l'Orinberga Siete caldi? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Allora, ciao caro, come stai? Va bene, ho bastante carico direi Carico è lo stesso che c'è una macchina che non sa più dove metterla Ascolta, noi siamo partiti adesso perché abbiamo dovuto cambiare uno dei due mezzi Insomma, nella sostanza arriviamo verso mezzogiorno Quindi quasi un'ora di ritardo, mio caro, sulla tabella di marcia Quindi tu prenditi la comoda, vai a trovare uno spacciatore della zona Prenditi un po' di eroina e stai lì in un angolo Partenza, un'ora e mezza di macchina Prima autogrill e gli altri sono già passati Ci siamo già persi Ed eccoci andass Ed eccoci recuperato anche il cric Per te sei già lì con la videocamera Ma non ci posso chiedere Ciao caro Come stai? Per te sei già lì con la videocamera Ah che patatina abbiamo aperto? Valle di formaggio Evviva! Sembra proprio come i tuoi piedi queste qua Ma perché tu sei come puzzano i miei piedi Questa è la prima schifezza che ho comprato Alla partenza Giusto perché mi sono messo a dieta tipo un mese fa E non hai i capelli Eh vabbè non importa Arrivati in Germania Panino Subway Centro di Questa è la prima schematic Questa è la prima Questa è la prima Questa è la prima Questa è la prima Grazie a tutti.